Abbiamo compato questa conferenza stampa per comunicare che abbiamo il primo caso di columna virus di una cittadina trentina. Nella tarda serata di ieri questa persona di 83 anni di Trento si è recata presso il pronto soccorso di Trento. Come voi sapete presso il pronto soccorso abbiamo le comunicazioni da fare presso il pre-triage. Alle domande fatte dagli infermieri, del personale sanitario, è stato risposto che aveva la tosse con questa persona e quindi questo era un elemento per far iniziare un percorso particolare che ha previsto da subito l'utilizzo della mascherina chirurgica e l'utilizzo di una saletta riservata. Nelle ore successive è stata fatta la radiologia come da prassi ospedaliera e alle ore 23 è stata ricoverata presso l'operare di Trento. Ciò che è stato diagnosticato nella serata di ieri è stata una polmonite. Secondo un protocollo che utilizza l'attenda sanitaria trentina e che non è previsto a livello nazionale e che comunque presso l'azienda sanitaria nostra è stato utilizzato in questa fase.